Cari amici, eccoci qua al trentesimo episodio, trentesimo episodio, cifra tonda, del format quotidiano Care teste di CAS, vacciniste, vicine e lontane, dove CAS naturalmente fa rima con PAS. Care teste di CAS, vacciniste, vicine e lontane. Settembre 2020, subito i numeri, il giorno 12 era un sabato, naturalmente avevamo 182 persone in terapia intensiva, 182, 182 come potete vedere. Non si vaccinava, lo ricordiamo sempre, e naturalmente settembre 2021, il 12, abbiamo 559 persone in terapia intensiva. 559, quindi si passa, ripetiamolo ancora, da 182 a 559. Nessun commento perché sarebbe superfluo. Per quanto riguarda i deceduti, idea al giorno, ancora peggio. L'anno scorso furono fortunatamente un numero esiguo, soltanto sei persone, sei, vedete, 12, sabato 12 settembre 2020, sei persone. Domenica 12 settembre 2021, oggi invece sono 34, che è quasi sei volte, sei per sei, 36. Quindi vedete, si conferma il trend, si conferma il trend che registriamo tutti i giorni, ormai è notorio e si è vaccinato il 75% di persone con doppia dose. Risultato, molte più terapie intensive occupate e molti più deceduti purtroppo ogni giorno. Vedremo cosa succederà, ma l'anno scorso, anche se avevamo appunto dei numeri molto contenuti, ancora a metà settembre, quando i contagi e i deceduti iniziarono ad esplodere, esplosero. Se partendo dai numeri attuali, già molto più elevati dell'anno scorso, avremo, come purtroppo si presume, ed è presumibile, una esplosione analoga, la situazione diventerà molto 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 grave. E loro lo sanno, e sanno benissimo che ormai si è vaccinato alla grande. Poi, è appena il caso di ricordare quello che succede nel mondo, notizia di ieri, praticamente, già due paesi europei, Svezia e Portogallo, ci ho fatto anche un video specifico, Svezia e Portogallo hanno deciso di chiudere le loro frontiere agli israeliani e alle persone che arrivano da Israele in generale, perché ci sono là troppi vaccinati e troppe varianti. Qui da noi il regime dice che il vaccino è l'unica via, continuano a dirlo testardamente e continuano però ad essere smentiti dai fatti. Vedete che i fatti e i numeri hanno la testa dura. Vi ringrazio per l'attenzione, viva la Costituzione, viva l'Italia e, prima o poi però, si ha la precisa sensazione che dovranno iniziare ad ammettere il flop di questa intensissima campagna vaccinale a cui sono tanti tanto affezionati.